Sabato 30 aprile Caltagirone ospiterà presso il Teatro dell'Orca un importante evento culturale, teatrale e anche di danza, quindi questo mondo ormai appassionato della compagnia Cuori Rivelati che opera sia a Catania che a Caltagirone, infatti nel gruppo di sabato vedremo appunto anche questo raggruppamento di ragazzi sia di Caltagirone che appunto di Catania, con la regia di Elena Rosa, Caldarella Benedetto e vabbè altri nomi magari in questo momento mi sfuggono però ce li facciamo proprio presentare da lei, intanto lo spettacolo si intitola The Family Machine, cosa significa e come nasce questo spettacolo e vogliamo un attimo ricordare così giusto per chi magari non vi conosce visto che operate molto di più sul catanese lo possiamo dire come spettacolo intendo perché Caltagirone ha i suoi pro e i suoi contro insomma lo possiamo anche dire questo, è una critica spero che sia costruttiva per chi ci ascolta, magari non vi conosce bene, chi sono Cuori Rivelati, come nasce e cosa fa nel territorio, qual è l'obiettivo che ha? Come obiettivo chiaramente ha principalmente il teatro essendo una compagnia di teatro, una compagnia abbastanza etereogenea perché noi includiamo persone sia che hanno una professione di teatro quindi attori, danzatori, artisti, spesso abbiamo diverse collaborazioni come spesso succede nei gruppi e allo stesso tempo c'è un gruppo di persone diversamente abili o con disagio comunque appunto noi anche persone che non hanno una specifica esperienza teatrale perché appunto per noi il gruppo per scelta deve essere aperto perché ci piace lavorare con chi non ha competenze e questa è una scelta specifica, poetica competenze professionali forse più sì che non ha diretto lo scopo lavorativo in questo senso nell'ambito del teatro anche fermo restando che c'è un gruppo che comunque costantemente ci lavora questo perché a noi piace lavorare con una motivazione diversa rispetto al teatro che è quella che ha un risvolto sociale e riteniamo che persone che appunto non hanno hanno spesso delle difficoltà dentro di sé hanno delle grandi potenzialità anche artistiche e poetiche la compagnia curi livellati principalmente noi lavoriamo a Catania abbiamo proprio un laboratorio permanente ma nasce a Caltagirone c'è il cuore di Caltagirone anche perché tu sei di Caltagirone vogliamo ricordare sì, sono calatina per cui mi piace sempre tornare qui e ogni anno proporre il laboratorio che è appunto ripeto è aperto a tutti da un paio d'anni la compagnia collabora con i musei civici di Caltagirone che ci hanno ospitato per il laboratorio quindi durante l'anno... la disposizione dei locali, cosa che a Caltagirone deficita un po' insomma eh sì, trovare spazi, avere degli spazi non è... anche se Caltagirone ha un grandissimo potenziale culturale insomma andrebbe anche valorizzato, noi cerchiamo sempre di bussare alla porta e ripeto i musei civici ci hanno accolto e la nostra attività in questi due anni è stata svolta lì quindi ci siamo incontrati da novembre ad oggi abbiamo anche accolto dei ragazzi della cooperativa Namastè che sono la loro prima esperienza teatrale che si hanno sempre partecipato quindi insomma avranno avuto uno stimolo in più, no? Sì, si hanno avuto uno stimolo in più anche perché sono rafforzati dagli storici del 2008 che invece ogni anno ripetono l'esperienza e per me sono veramente dei grandi professionisti questo lo posso dire Torniamo quindi a questo spettacolo, spettacolo teatrale di danza, insomma come chiamarlo precisamente? È uno spettacolo teatrale, Family Machine, che viene da una rivisitazione, diciamo un mixage perché a noi piace prendere spunti, stimoli da diverse cose siamo partiti dall'Amleto di Shakespeare ma come ispirazione per poi passare ad Heiner Müller che ha scritto Hamlet Machine, che è un'opera che completamente smonta l'opera originaria di Hamleto quindi fondamentalmente quello che rimane è la nostra interpretazione tra figure di Ofelia e Hamleti che interagiscono tra di loro e che si ribellano in qualche modo ad un dramma perché Hamleto e Ofelia nell'opera originaria sono delle vittime, vittime del potere, vittime della società in questo caso si ribellano, non sono vittime ma padrone del proprio destino E non aggiungiamo però troppe cose No, no, va bene così Stiamo incuriosendo, mi hai incuriosito abbastanza però appunto non per tagliare il discorso però è bello che insomma stimoliamo il desiderio di chi vorrebbe venire a vederlo quindi torniamo all'argomento, all'appuntamento, anzi di sabato Sì, sabato 30 aprile, quindi ci siamo alle 21 al Teatro dell'Orca in piazza San Francesco d'Assisi che è praticamente alle spalle della Chiesa dell'Immacolato insomma perché non è semplice magari per molti ancora individuarlo tra l'altro è stato aperto da qualche annetto nuovamente quindi insomma ancora magari qualcuno non... magari sa dov'è ma un poco sfuggi Sì, quindi ricordiamolo, dietro la Chiesa dell'Immacolata in piazza San Francesco In via Sant'Antonino Suggerisco ai Calatini di visitare il Teatro dell'Orca perché credo sia una importante realtà anzi una nuova realtà a Caltagirone anche rispetto all'organizzazione di insomma di una stagione teatrale e di proposte anche se vuoi alternative quindi anche coraggiose Quindi biglietti, botteghino? Biglietti... O prevendite? Si può arrivare direttamente al Teatro dell'Orca puntuali, anzi manca un po' in anticipo volendo o anche in prevendita basta o telefonare c'è un evento su Facebook basta cercare Family Machine Teatro dell'Orca o la pagina del Teatro dell'Orca o altrimenti presso il bar Scivoli del Viale Mario Milazzo